Un uomo di 33 anni è stato investito stamattina da una Fiat Punto Alabico, vicino Roma, alla guida della macchina. C'era un 38enne che si è fermato a prestare soccorso. Il 33enne è stato portato prima all'ospedale di Palestrina e poi trasferito all'Umberto I in gravi condizioni. Dopo le prime cure e considerata la gravità dello scontro, infatti il pedone è stato trasferito all'Umberto I in codice rosso, dove resta ricoverato in prognosi riservata in gravissime condizioni. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Colleferro e di Labico per i rilievi del caso. I documenti dell'auto che è stata sequestrata sono risultati regolari. Due ragazzi di 23 anni sono invece rimasti feriti e portati in ospedale dal 118 in un incidente che si è verificato ieri sera sulla 12 la Roma Civitavecchia all'altezza dell'intersezione con la rampa che permette l'immissione sulla 91 la Roma Fiumicino nel tratto di strada che porta verso la capitale. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre i ragazzi dalle lamiere e consegnarli ai sanitari del 118 per le prime cure.